Allora, il pericolo è molto serio, ma proprio per questo l'Europa deve essere unita e deve dare una risposta compatta sull'emergenza del prezzo del gas. Vi ricordate che dal 2002 noi chiediamo all'Europa di darsi una politica comune per la politica estera e per difesa? Bene, ora dobbiamo chiederla anche sull'energia. Rimangono naturalmente le gravi responsabilità della sinistra che ha permesso che la nostra dipendenza dal gas russo salisse dal 19,9% del totale quando governavamo noi al 45,9% con il governo Letta. Se quest'inverno le nostre aziende saranno chiuse e le nostre famiglie saranno al freddo, ci dovremo ricordare di chi ha messo in pericolo la nostra tranquillità domestica.